entrambi in questo momento in grado di interpretare il loro tennis migliore e guardate quando Sampras, poi il termometro della forma di Sampras è proprio il rovescio quando questi rovesci significa davvero che è il miglior Sampras e poi il diritto, beh questo è un diritto passato nel 38 c'era uscito un altro giocatore Donald Buzzi, il diritto di Agassi, profondo ha risposto bene Agassi, è il lob perfetto è grande azione di Agassi eccolo, eccolo e lo smash con il salto a piedi uniti di Sampras che ha fatto la fortuna di un fotografo italiano, Ray Giubilo che immortalando questa immagine poi ha visto la sua foto che vogliono vedere i spettatori americani beh sicuramente questo sport rimarrà hot, rimarrà caldo negli Stati Uniti che risposta che risposta Andre Agassi e beh Brookfield sta vedendo un che risposta Agassi e beh che punto che punto hanno giocato entrambi a mio avviso finora abbiamo visto tantissimi punti questo è il più bel punto del match perché guardai Sampras come ha preso la rete malgrado la risposta di Agassi e che ricamo con la palla a tornare indietro sarebbe stato probabilmente passante che risposta e che voler e beh speriamo che questo che scambio e alla fine Sampras un po' in apnea mette a rete il diritto Sampras che ha fatto c'è arrivato Agassi è straordinario questo punto eh sì Stanley Novation del pubblico di Los Angeles con Sampras esce il rovescio di Agassi ha cercato un angolo e Sampras un angolo forse un po' troppo un po' troppo a fretta e questo è un super rovescio si aspettava in lungolinea Sampras da giustamente che negli ultimi tre turni di battuta Agassi ha sempre vinto a zero i propri turni di battuta e qui Sampras addirittura che cosa ha fatto piazza il passante bravo Agassi la profondità del diritto poi va preso qui perde un po' il controllo della risposta una sorta di esaltazione agonistica per un Agassi che qui è un po' esagerato scomponendosi nella risposta rivediamo l'urlo è da che vuole Sampras e ci arriva Agassi e gioca un cross un passante in cross perfetto che punto e tanta qualità ha racchiuso in questo passante in corsa di Agassi bravo Agassi che ha fatto ha rischiato ha cambiato qualcosa ha fatto selva in volley ma soprattutto attenzione 5 match point di fila Sampras il primo sulla riga vediamo che scambio e poi sul nastro sembrava averla annullato c'è arrivato Sampras e chiude in apnea la derusione sul volto di Andrea Agassi ma è stata una grandissima finale l'abbraccio tra i due con una volta i complimenti che si fanno entrambi il grande rispetto che hanno i due giocatori un doppio type rack che regala Sampras il titolo a Los Angeles quest'anno l'abbraccio